Ciao a tutti ragazzi sono Adventure Magic, oggi vedremo come eliminare tutti i virus dal proprio computer compresi di Spearware che sarebbero dei programmi dannosi per il vostro computer perché vi fregano le password e altre cose quindi ho anche virus che vi possono bloccare addirittura al computer per sempre, lo dovete poi portare da un tecnico informatico, il firmware, tutti insomma tutti i tipi di virus con un programma chiamato Avast che sarebbe un antivirus allora con questo programma vi posso giurare che avrete dei risultati semplicemente fantastici e si può addirittura eliminare tutti i virus presenti nei browser più famosi come Google Chrome e Google allora prima di tutto dovete andare nel primo link che vi ho messo in descrizione e scaricare Avast che sarebbe poi questa pagina qua che vi aprirà automaticamente il download se non ve lo apri cliccate qua che si dovrebbe scaricarvelo poi dopo dovete andare nell'altro link e scaricare la clac una volta scaricati il download dovete installare Avast in questo modo qua esegui dovete fare installa prova di 30 giorni, installazione standard questo qua potete, se volete mettetelo a me non mi interessa, lo tiro via ok aspettiamo che si installa, quindi arriviamo al computer ok ragazzi una volta arrivato il computer andate sul pannello di controllo, scrivete qua fire e cliccate qua, impostazioni avanzate ok adesso fate fate nuova regola cliccate qua col tasto destro, andate su percorso file poi dopo da qua copiate tutto questo fate, mettete una barra ok dopo lo incollate, se non avete l'estensione basta che lo riscrivete dopo fate copia, tornate là fate programma, lo incollate avanti fate blocca la connessione fate avanti, avanti dopo dovete dare il nome per ricordarvi qual era e questa cosa scadrà fra 50 anni quindi non ve l'ho detto prima perché non mi sembrava a caso già che credo che fra 50 anni siano cambiate un pochino di cose magari li mettiamo quando l'avete scaricata ok una volta fatto questo fate fine adesso chiudete ok adesso apriamo Avast un attimo e fate impostazioni, risoluzione dei problemi abilita modo di autodifesa di Avast dovete eliminarlo però fate ok lui vi farà questa domanda per evitare che sia un software a farlo ok una volta fatto così dobbiamo installare la crack cliccate qua mettete su English ok next accettate la password è quella che vi ho messo in descrizione che è Zenix ok avanti, avanti installa vi richiederà di riavviare il computer ok ragazzi se vi fa una domanda del genere voi chiudetela pure che riguarda le lette adesso possiamo aprire Avast tranquillamente andiamo nelle impostazioni e potete abilitarne il modulo di autodifesa perchè quello che dovevamo fare è finito e come notate adesso se noi andiamo tanto è scomparsa la scritta che c'era qua prima per l'abbonamento come vedete ci mette 1.13 1.127 giorni e qua è l'abbonamento e quindi di conseguenza avremo Avast fino al 2064 gratuitamente allora vi consiglio prima di tutto perchè voi avete visto questo video per cancellare i virus, spillware quei cazzi di pop up e tutti quei baracchinati lì di andare su strumenti browser crap proprio che sarebbe per pulire i browser questa è una delle cose che si possono fare ma ce ne sono tantissime voi non vi immaginate quante cose può fare questo programma addirittura proteggervi le passuri e tutto di più ok in caso in cui vi faccio questa cosa qua fateli sì che potrebbe essere magari i virus che vi bloccano appositamente queste cose qua e adesso andiamo a vedere un pochino che baracchinate ci sono guardate quante schifezze avevo io che neanche me ne accorgevo cioè se io adesso vado a vedere su chrome guardate che velocità va cioè praticamente se voi provate adesso questo non si viene nel motore di ricerca che di merda che si è scaricato da solo se io provo a cercare qualsiasi cosa mi cerco questo cazzo di motore di ricerca posso cercare non lo so andare su youtube che non ne affida bene neanche per quello e mi apre delle stronzate se voi per esempio andate potreste fare da solo questi processi però sono un pochino più complicati se voi per esempio andate a vedere le estensioni guardate ce n'è solo una a parte che non si vuole neanche cancellare ma ce n'è solo una se noi invece andiamo a pulire chrome si può pulire anche Firworks andiamo a pulire chrome facciamo rimuovi anzi ripristiniamo direttamente le impostazioni così facciamo prima google vai in modo che così il motore di ricerca principale è google se noi andiamo a vedere qua guardate un pochino tadaaa e adesso se noi andiamo a cercare youtube poi i cazzo di pop up sono scomparsi e ragazzi guardate che velocità va pazzesco cioè prima ci metteva una vita adesso questo è un esempio stupido ma voi non vi immaginate le cose fantastiche che può fare questo programma possiamo andare qua a ripulire tutte queste cazze guardate quante cose si sono scaricate ecco perché non mi partì a fare poi un'altra cosa che vi consiglio di fare è potete addirittura guardare le statistiche dei virus che avete durante il vostro computer avast e vi animerà automatic virus appena li trova in più io vi consiglio anche di fare una scansione circa quattro volte al mese bisognerebbe farla ma voi potete farla anche ogni tanto io vi consiglio di fare almeno ogni tanto una scansione veloce o completa io ho un computer abbastanza pieno quindi se facciamo una scansione veloce e lui trova sicuramente questo programma trova sicuramente dei virus anche che voi magari non ve ne siete mai accorti o programmi inutili nel caso avast vi chiederà di riavviare il computer e voi riavviatelo però se vi chiede di fare un'inter se vi fa vedere un'interfaccia grafica voi premete esche e andate su windows oppure se volete potete farlo ma è semplicemente un controllo vi chiederà tutto comunque lui se spostare nei cestini file dannosi che trova che vi rallentano addirittura pensate vi cancella pure i file che vi rallentano il computer ovviamente vi dice quali sono e vi chiede se volete farlo e guardate addirittura c'è la possibilità di proteggere la sicurezza dei vostri cellulari adesso noi facciamo una scansione veloce come vedete c'è tutto qua alla home possiamo passare anche direttamente da qua sarà già messo un altro baracchino se avete dei problemi ragazzi scrivete nei commenti e mi raccomando fate una scansione subito anche se ci metterà un pochino di tempo lo lasciate tranquillo fa tutto lui e addirittura se non mi sbaglio c'è anche la possibilità di far spegnere il computer quando ava sta finito comunque se volete potete informarvi riguardo io adesso non ho il tempo necessario comunque se avete dei problemi posso fare un altro tutorial e magari scrivetemi i commenti di novità che trovate e li aggiungerò in descrizione quindi ciao a tutti i ragazzi da DentroMagic al prossimo video tutorial ciao 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 ciao